Semplice ed anche più veloce e facile di acquistare un medicinale. Recarsi in farmacia per il rilascio della certificazione Green Pass è gratuito e richiede pochissimi secondi dietro la semplice esibizione della tessera sanitaria. In questi giorni sono tantissimi cittadini soprattutto quelli più anziani e con meno di mistichezza con la tecnologia che hanno deciso di rivolgersi direttamente ai propri farmacisti di fiducia per chiedere l'aiuto ed ottenere la certificazione che attesta di essere stati sottoposti alla doppia dose di vaccino. Lo stesso procedimento può essere effettuato in maniera autonoma direttamente da casa attraverso la mail oppure presso i medici di base. Dottore ottenere il Green Pass è facile basta venire qui in farmacia pochi secondi e viene rilasciato? Sì basta portare la tessera sanitaria e facciamo tutto in pochi secondi. C'è bisogno solo della tessera sanitaria. Tutto qua. Sono tante le persone che in questi giorni stanno venendo l'obbligo in qualche maniera ha sollecitato la necessità di richiederlo? Sì c'è stato sicuramente un boom di richieste in quest'ultima settimana sicuramente gente che deve andare in vacanza o che vuole prepararsi per la data del 6 agosto da quando sarà necessario il pass per fare diverse cose. Si può scaricare anche in maniera autonoma a quale fascia si rivolge alla farmacia? Le persone più anziane? Sì le persone più anziane che hanno un po' di difficoltà in più con la tecnologia è possibile farlo autonomamente dal computer di casa o anche dal cellulare e arriva anche un codice dal ministero della salute che va inserito in un'applicazione è abbastanza semplice però molti si rivolgono a noi per facilitare ancora di più una cosa.